Oggi a Bruxelles, riunione della Commissione Politica Economica, Commissione Econ, sono intervenuto durante il dibattito sulle conseguenze economiche derivanti dalla guerra in Ucraina. Durante l'intervento ho ricordato l'importanza di un intervento dell'Unione Europea a sostegno di tutte quelle aziende e a sostegno della politica economica regionale fortemente danneggiata dalle conseguenze economiche del conflitto bellico. Sicuramente le conseguenze umanitarie e sociali saranno drammatiche, sono drammatiche, lo vediamo tutti i giorni, ma siamo anche preoccupati di quello che potrà accadere, di quello che accadrà nei nostri territori locali. Le aziende stanno già soffrendo una crisi causata dai rincari dell'energia e abbiamo sollecitato e solleciteremo l'Unione Europea ad avviare delle politiche di una maggior autonomia dal punto di vista energetico. Non dobbiamo essere assolutamente indipendenti dalla Russia, ma dobbiamo fare in modo che si cresca dal punto di vista delle energie rinnovabili e trovare anche nuove forme di approvvigionamento dell'energia.